Eccoci con il dottor Vito De Palma, candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia. Abbiamo parlato in precedenti interviste di sviluppo economico del territorio, di occupazione e qui affrontiamo la tematica dei giovani. Tanti giovani purtroppo lasciano le terre natie e tentano fortuna altrove. Assistiamo alla fuga dei cervelli, tante professionalità di valore inestimabile fanno fortuna altrove, all'estero abbiamo visto anche medici di fama internazionale che vengono dalla nostra provincia. Come frenare questo triste fenomeno della fuga dei cervelli? Quali occasioni dare ai giovani per dire restate su questo territorio? Io penso che i giovani che restano sul territorio si sono sapientemente valorizzati, in particolar modo i giovani che escono dal mondo dell'università devono avere delle prospettive concrete. Io ricordo alcuni giovani, nella mia esperienza associativa all'interno anche del discorso parrocchiale, per vent'anni ho avuto a che fare con tanti ragazzi, tanti giovani, che spesso e volentieri si spostavano per studiare al nord perché il nord al termine del percorso universitario gli consentiva subito di trovare lavoro. Questo è vero ed è vero per il passato ma può anche essere modificata, invertita la tendenza ed è vero anche che anche il tessuto tarantino può guardare attraverso un confronto tra mondo universitario e mondo delle imprese, mondo produttivo, mondo culturale, storico, archeologico affinché queste nostre eccellenze del territorio possano restare qui. Per far questo abbiamo necessità che il sistema politico, il sistema istituzionale debba investire su turismo, su agricoltura, sul sistema delle piccole e medie imprese e soprattutto anche su quello spazio culturale. Noi qui ci troviamo con alle spalle il castello aragonese di Taranto, ma Taranto che è la città della Magna Grecia per eccellenza, è la taras piena di ricchezze culturali e archeologiche e che non viene valorizzata nella maniera giusta. Ma quanti posti di lavoro potrebbe dare questo territorio se veramente le istituzioni investissero seriamente in questo segmento? Io penso che questa cosa si possa fare.